Anche questa sera siamo qua, Gianni Milani, Nick Drama DJ in The Square, abbiamo una testimonianza. Guarda questa ragazza, com'è che ti chiami? Ciao, io mi chiamo Gian Rai e faccio la barista al band Basticceria Dolci Momenti. Sì, oggi ho sentito dire da tanti clienti che la musica più carina di ieri sera è stata in questa piazza. In questa piazza, abbiamo qua uno dei protagonisti e poi eccoci qua. Guarda, 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 mettiamoci alla luce. Eccolo qua, vai Gianni, fatti vedere. Gianni, alza lo sguardo, stasera sei stato giù sempre. Grazie del complimento, ci siamo. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi.